Gli oggi a temporali nella notte in alzato il livello dei corsi d'acqua a prensione per il ficarello e il calice. Bilancio della questura, trend e i reati sotto controllo ma preoccupano le truffe online, trafugati 860 mila euro. Più attenzione ai residenti, regolamentazione di parcheggi e ZTL, le proposte del neoassessore al centro storico Sboglie. Buongiorno e benvenuti al telegiornale di TV Prato. In primo piano l'allerta a meteo, pioggia e temporali hanno causato l'innalzamento del livello dei corsi d'acqua. In città restano chiuse le piste ciclabili nei tratti lungo il fiume Bisenzio per ordinanza del sindaco. Vediamo. Ombrone e corsi d'acqua minori osservati speciali a causa dell'allerta meteo che prosegue fino alle 16 di oggi. Già da ieri sera tutti i livelli idrometrici dei corsi d'acqua erano in rapida ascesa. Nel corso della notte si è registrato il picco di piena dell'ombrone alla stazione di rilevamento del ponte all'asse a Poggio Accaiano, con il livello che ha raggiunto 82 centimetri oltre il secondo livello di guardia, comportando la chiusura per diverse ore delle portelle che permettono all'intero reticolo idraulico minore di sfociare nel torrente. La conseguenza è stata l'innalzamento di tutti i livelli dei fossi e torrenti dell'intero territorio pretese. In particolare hanno creato a prensione il ficarello e il calice. La situazione dell'ombrone è in via di normalizzazione e i livelli si stanno progressivamente riportando sotto la soglia di guardia. A Prato non si sono verificate particolari situazioni di criticità con il Bisenzio che ha raggiunto il primo livello di guardia. La situazione è costantemente monitorata dalla protezione civile. Complessivamente sono stati impegnati otto gruppi di VAB, associazione CSN, associazione Oltre, pubblica assistenza e subprato per sopralluoghi e il monitoraggio di corsi d'acqua, fiumi e viabilità. Molte le pattuglie della municipale che sono intervenute, in particolare ieri sera nel momento in cui la pioggia era più intensa sulla città. Consiglio Servizi ha eseguito le transenature della viabilità con acqua sulla carreggiata e la chiusura delle piste ciclabili, come previsto dall'ordinanza del sindaco Matteo Biffoni. La Questura stila il bilancio di fine anno del 2022, trend dei reati in leggero aumento, ma preoccupa il boom delle truffe e delle frodi online, quasi una ogni due giorni, trafugati in tutto 860 mila euro. I reati denunciati nel 2022 sono in leggero incremento rispetto allo scorso anno a Prato e provincia, ma diminuiscono rispetto al 2019 e al 2020. È la fotografia scattata dalla Questura di Prato nel tracciare il bilancio di fine anno, un anno questo caratterizzato dal sostanziale ritorno alla normalità rispetto al biennio precedente, fortemente condizionato dalle restrizioni Covid, che avevano avuto un riflesso anche sull'andamento della criminalità. Al 6 dicembre scorso, i reati denunciati a livello provinciale erano stati 2.685, uno in meno rispetto ai delitti registrati nell'intero 2021. Guardando all'indice di criminalità, ovvero il numero di reati ogni mille abitanti, Prato è nettamente il comune meno sicuro della provincia, con un indice pari a 48,24, in peggioramento rispetto al 2021, seguono, con un indice intorno ai 33 reati ogni mille abitanti, Poggio a Caiano e Montemurlo, mentre Vernio e Carmignano hanno un indice di 27, Baiano di 23 e Cantagallo soltanto 13 reati denunciati ogni mille abitanti. Per quanto riguarda la repressione, al 10 dicembre scorso la polizia ha proceduto a 162 arresti e 1.235 denunce, date in linea rispetto allo scorso anno. A preoccupare è l'aumento esponenziale dei delitti informatici, 143 le truffe e le frodi online, su cui indaga la polizia postale, per un totale di oltre 860 mila euro trafugati nel corso di quest'anno. A crescere sono anche le misure di prevenzione disposte dal 2022 dal questore Giuseppe Cannizzaro, distruttoria, più 35% rispetto agli anni scorsi, e i 23 ammonimenti, più 49 allo studio, per casi di violenza domestica o stalking. Nell'attività di polizia amministrativa spiccano le 5.300 verifiche sulla detenzione e custodia delle armi che hanno portato all'emissione di 926 diffide nei confronti di altrettanti titolari del porto d'armi, ai quali è stato chiesto di portare entro 60 giorni l'aggiornamento del certificato di donità sanitaria. Altro dato che ha conosciuto un vero e proprio boom riguarda i passaporti, con il ritorno alla voglia di viaggiare dopo le restrizioni pandemiche. Dai 3.384 passaporti rilasciati dalla questura nel 2021, si è passati ai 7.376 titoli di viaggio rilasciati quest'anno. Ancora cronaca, i carabinieri hanno dato esecuzione alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 33enne pluripregiudicato cinese che a inizio dicembre ha colpito con coltellate al volto e al torace un connazionale all'interno di un locale gestito da cinesi. Il 33enne, già sottoposto all'obbligo di dimora prima della misura restrittiva emessa dal Tribunale, era stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Più attenzione ai residenti, una revisione della regolamentazione dei parcheggi e della ZTL, magari attraverso l'installazione di nuovi varchi. Sono alcune delle proposte del neoassessore al centro storico Giacomo Sbolgi di Italia Viva, ospite ieri sera del settimanale di attualità di TV Prato Parliamoci Chiaro. Sentiamo cosa ha detto in merito alla possibilità di incrementare i varchi elettronici e la replica del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Tommaso Cocci di opinione opposta. Il centro di Prato è talmente piccolo, oltre a essere bello, che è facilmente attraversabile a piedi in brevissimo tempo. Per attraversarlo a piedi però deve essere anche in sicurezza, se te devi passare a piedi con l'afflusso, penso a Piazza San Francesco, penso alla parte quella trafficata di Piazza San Francesco, dove c'è un afflusso molto forte proveniente da Porta Santa Trinita per andare verso Piazza del Duomo o viceversa. Quel tratto di strada da Piazza delle Carceri per andare in Verinaldesca, che è l'unico tratto di strada che è in ZTLB, c'è quella giornaliera dalle 7.30 alle 18.30 alla sera, è solo un tratto di strada, lì una telecamera la potessi mettere e ampliare la ZTL-A ad esempio, è un'idea. Poi su questo dobbiamo fare una discussione. Sulla ZTL io penso che invece dopo una certa ora, può essere le 11, mezzanotte, anche consentire l'accesso in alcune parti del centro storico può anche agevolare la fruibilità del centro storico stesso e a ravvivare, e qui si potrebbe vedere in vari orari, alcune zone del centro storico, perché, lo faccio presente al neoassessore, ci sono varie zone, gli accessi al centro storico dove stentano a decollare delle attività autoctone, fruibili per tutti e abbiamo visto un profiferare in San Domenico alla Porta Santa Trinita, a Porta al Serraglio, tutta un'attività di gestioni etne, che sicuramente, non per il fatto di essere delle gestioni etne lo stesso, ma per la peculiarità di un centro storico, danno l'idea di un centro storico non vissuto. È iniziata nel segno della solidarietà la veglia dei giovani guidata dal Vescovo in preparazione al Natale. L'invito rivolto dalla pastorale giovanile era quello di portare dei viveri per la popolazione ucraina stremata dalla guerra e proprio alla costruzione della pace erano dedicate la riflessione di Monsignor Nerbini e l'intera serata che si è tenuta ieri in cattedrale. Presenti una settantina di ragazzi e ragazze appartenenti a varie parrocchie e pratesi. Hanno portato la loro testimonianza due giovani di Rondine, cittadella della pace, dove vivono e studiano insieme uomini e donne provenienti da varie parti del mondo e che sperimentano la gestione dei conflitti, mettendo la persona e il rispetto reciproco al centro dei loro rapporti. Salvare una vita è sempre una buona idea in terra come in mare. Come possiamo unirci per salvare persone e salvaguardare i diritti umani? Di questo si parlerà in un talk show organizzato dalla ONG RSQ People Saving People e trasmesso in diretta su TV Prato domenica prossima dalle 13 alle 16. Porteranno la loro testimonianza il cardinale Matteo Zuppi, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, Gad Lerner, Alessandro Bergonzoni e tanti altri. Parliamo di cultura. Il noto botanico e saggista Stefano Mancuso ha presentato il suo nuovo libro La Tribù degli Alberi nell'ambito della rassegna Centro Pecci Books. Per noi c'era Silvia Fioravanti. Chiude in grande stile l'edizione 2022 di Centro Pecci Books. Con la presentazione del libro La Tribù degli Alberi del professor Stefano Mancuso. Il professore di arboricoltura generale e di etologia e neurobiologia vegetale dell'Università di Firenze debutta nel mondo della narrativa dopo molti saggi di successo e lo fa con una scelta originale, ma se ci si pensa, perfettamente in linea con la sua opera di divulgazione, un romanzo in cui i protagonisti sono gli alberi. Ho scritto per finora tanti libri di saggistica, per chi li conosce sa che nonostante siano dei libri di saggistica mi è sempre piaciuto raccontare delle storie. Questa volta ho deciso di lasciare da parte la scienza di fare proprio un romanzo vero e proprio, in cui però, un romanzo un po' particolare, in cui i protagonisti sono gli alberi, quindi alberi che si muovono fanno delle cose, diciamo che normalmente gli alberi non fanno, che sono visti attraverso gli occhi umani, ma nello stesso tempo i motori primi che li muovono sono veramente le motivazioni e i comportamenti tipici degli alberi in natura. Stefano Mancuso, introdotto dal direttore del Centro Pecci Stefano Collicelli Cagol, ha dialogato a tu per tu con il pubblico, quasi un centinaio di persone nonostante il meteo a dir poco inclemente, illustrando a 360 gradi il mondo delle piante, a cui il più delle volte noi esseri umani non facciamo neanche caso. Le piante ci dovrebbero insegnare soprattutto una cosa, il rispetto dell'ambiente, una pianta non rovinerebbe mai l'ambiente dal quale proviene la propria capacità di sopravvivere, e il rispetto degli altri. Le piante sono delle straordinarie comunità che praticano, mettono in atto quella utopia umana che da tanti secoli ci vorremmo attuare, che è quella del mutuo appoggio. È arrivato il momento delle previsioni meteo, come sempre, a cura del Consorzio Lamma. Un cavaloso saluto a tutti, ben trovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. Diamo uno sguardo all'immagine da satellite, ci mostra la presenza di ancora molte nubi sul Mediterraneo centrale, nubi legate ad un'area di bassa pressione che lentamente tenderà a colmarsi e spostarsi verso Levante nel corso di questo fine settimana. Ma andiamo a vedere il tempo previsto per oggi, giornata ancora caratterizzata da molte nubi sulla nostra regione, con precipitazioni che saranno frequenti un po' su tutta la Toscana, ma in particolare sulle zone più interne, su quelle centro-meridionali, dove assumeranno anche a carattere di rovescio o locale temporale. I venti sono di dibeccio, i mari mossi, le temperature quest'oggi sono pressoché stazionarie, con massime fino a 14-15 gradi. Uno sguardo anche al tempo previsto per la giornata di domani, sabato mattinata, c'era ancora nuvoloso, qualche residuo, precipitazione sarà ancora possibile, ma fenomeno comunque in genere di breve durata, con mari che resteranno ancora mossi. Se le temperature minime sono attese in lieve diminuzione, resteranno comunque su valori superiori alle medie del periodo, guardiamo anche la seconda parte della giornata, un ulteriore miglioramento, qualche schiarita, ma saranno ancora possibili degli isolati rovesci, in particolare sulle zone dell'arcipelago, fenomeni molto localizzati. I venti sono in attenuazione, così come i mari, le temperature nei valori massimi non subiranno grosse variazioni, oscilleranno ancora una volta intorno ai 15 gradi. Bene, con questo concluso non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. Si conclude anche il nostro telegiornale del giorno, restate con noi, vi ricordiamo alle 17.30 in diretta dalla Chiesa Parrocchiale dell'Ascensione Il Pino, la recita del Rosario e a seguire la celebrazione della Santa Messa Feriale. L'informazione di TV Prato torna come sempre stasera alle 20.30 con il Tg della Sera. Grazie dell'attenzione, buon pomeriggio.